Coltivava marijuana accanto agli altri ortaggi proprio nell'orto di casa, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri e così finito nei guai un bracciante agricolo italiano con precedenti penali. L'uomo infatti nell'orto, nei pressi della propria abitazione, oltre a coltivare vari tipi di ortaggi, aveva piantato anche quattro piantine di marijuana per poi raccoglierne l'infiorescenza e produrre così lo stupefacente che avrebbe potuto essere venduto in un secondo momento. I carabinieri della stazione di Levane sono riusciti a scovare la coltivazione abusiva e a risalire al proprietario del terreno. I militari hanno così proceduto al sequestro delle quattro piante e di tutte le infiorescenze per la successiva distribuzione ed hanno denunciato in stato di libertà l'operaio agricolo.